bentornati a lampi di tesla siamo sempre nella model why sono appena tornato da circa 700 chilometri poi vi racconterò tutto ma veniamo noi coi lampi di stasera cominciamo dalla notizia più semplice stranamente sul configuratore americano la model why era senza i pannelli porta quelli con l'inserto in tinta con il cruscotto diciamo il dashboard quello che corre lungo a tutta la macchina davanti dietro allo schermo che è color legno per gli interni neri e bianco per gli interni bianchi era disponibile su model 3 ma non lo era su model why ora il configuratore è stato aggiornato e anche model why come le model why prodotte sia berlino che a shanghai avrà questo inserto nei pannelli porta probabilmente semplicemente come abbiamo già detto altre volte tesla aveva già ordinato ecco quel tipo di pannelli porta e quindi andate esaurimento e poi li ha aggiornati appena finito lo stock niente di che insomma quindi è una piccola distinzione rispetto al modello chiamiamolo precedente nelle ultime due puntate di lampi di tesla vi ho parlato di questa notizia da prendere molto con le pinze riguardante le batterie blade della byd presso la gigafactory berlino con le pinze perché non sono molto sicuro delle fonti ora però abbiamo un qualcosa in più una fonte un po più attendibile che parla di omologazione citando effettivamente anche dei codici di omologazione europei quindi comincio a crederci un pochino di più anche se rimango un po dubbioso comunque adesso vi spiego perché allora batterie blade quindi sempre lfp ma con un contenitore chiamiamo così un pochino più evoluto rispetto alle lfp montate sulle model 3 standard range è possibile che queste batterie a differenza delle altre che sono prismatiche piccoline queste sono lunghe per tutta la larghezza della macchina è possibile che con queste batterie venga costituito un pacco strutturale quindi con le altre non è possibile con queste sì infatti sembra proprio che questa omologazione abbia il pacco strutturale e sia da 55 kilowattora questo dato non mi piace tanto perché oggi la model 3 standard range plus ha un pacco da 60 kilowattora lfp la model y chiamiamo la standard range anche lei che comunque più grande e consuma un pochino di più a un pacco di 5 kilowattora più piccolo è possibile però non capisco la scelta quindi rimango un pochino dubbioso si parla addirittura di un vltp un valore vuole tp di 440 chilometri il che se fosse confermato sarebbe davvero un gran risultato perché le model 3 invece hanno un valore di 4 90 ma intanto la macchina più piccola e hanno 5 kilowattora in più quindi addirittura forse diventa più efficiente quest'auto forse limiteranno i pesi grazie al tipo di batteria è possibile quindi e si parla anche di versione monomotore quindi a tutti gli effetti a differenza di quella di austin sarebbe una model y standard range in tutto e per tutto ma se costasse un 5 6 mila euro in meno della long range potrebbe essere effettivamente interessante voi cosa ne pensate quanto dovrebbe costare in meno per valere la pena secondo voi quindi la differenza tra una long range quindi più autonomia due motori quindi più potenza rispetto a un'autonomia inferiore e un solo motore sull'asse posteriore ma vediamo vediamo se salta fuori qualcosa perché si parla addirittura di produzione fine agosto quindi se salterà fuori qualcosa me lo aspetto sul configuratore a settembre devo dire che potrebbe avere senso in ottica futura dove le 46 80 vanno invece a creare un altro modello che sarebbe sempre una sorta di standard range ma con il doppio motore avanti e indietro poi sarebbe anche interessante capire se questo modello con le blade e quindi con il pacco strutturale lfp avrà anche il mega casting anteriore perché attualmente le macchine che escono da berlino hanno solo il posteriore ma tutto da verificare quindi aspettiamo vi ho riportato la notizia qualche dettaglio in più vediamo gli sviluppi e ora vi faccio vedere questa schermata questo è il configuratore americano notate niente di particolare queste model 3 come vedete c'è la rear wheel drive quindi la standard range che costa 46 9 90 e c'è la performance che costa 62 9 e 90 quindi una differenza sostanziale e c'è la long range che non si può più ordinare è stata tolta dal configuratore e sotto c'è scritto che sarà possibile riordinarla nel 2023 quindi abbiamo un bel po di mesi senza long range perché questo io mi sono fatto qualche idea allora innanzitutto i tempi di consegna comunque anche negli stati uniti sono abbastanza lunghi se andiamo a vedere questo grafico fatto da troites like che segue le consegne la produzione tutto il resto come vedete model y in rosso ha una media di 175 giorni di attesa quindi anche loro anche come l'europa hanno un'attesa particolarmente lunga vi assicuro che negli stati uniti già solo dieci giorni di attesa è una follia e in blu vedete model 3 che però non è così alta come model y 89 giorni di media ora vi dico come leggo io questa cosa ci sono varie opzioni secondo me la prima opzione è che tesla vuole spingere al 100 per cento su model y non l'ha mai nascosto e quindi togliendo una versione di model 3 che poi è quella che usa materialmente la stessa batteria di model y e gli stessi motori di model y riesce a probabilmente abbassare un po i tempi d'attesa per model y quindi fremont va a produrre più model y rispetto a model 3 e quindi riesce un po a far scendere questi sei mesi di attesa media il secondo fattore secondo me è che vi avevo parlato degli incentivi negli stati uniti tesla non ne faceva parte in quelli attualmente in essere ora sono stati approvati nuovi incentivi all'interno di un piano ben più ampio questo andrà in in essere come legge da dalla prossima settimana e tesla rientrerà a far parte degli incentivi ma le regole per ottenere incentivi sono particolarmente restrittive e nello specifico tesla ha la model 3 standard range che ci rientra ma solo per la metà quindi dei 7500 dollari solo 3.750 perché perché la batteria è importata dalla cina quindi quel fattore non la fa rientrare negli incentivi o meglio gli incentivi sono strutturati in una maniera abbastanza complicata ma se produci in soldoni se produci l'auto negli stati uniti hai diritto a metà se le componenti della batteria sono prodotte al di fuori oltre agli stati uniti ma anche di un'altra serie di stati allora non rientri nell'altra metà degli incentivi quindi a questo punto la standard range riceverà 3.750 la long range invece che ha la batteria e anche la performance che ha la batteria prodotta in nevada avrebbe avuto accesso a 7500 dollari di incentivo andando quindi a limitare ridurre la forbice di differenza tra long range e standard range di ben 3.750 dollari il che secondo me avrebbe portato moltissimi ordini a favore della long range probabilmente a scapito anche della performance ma la performance è quella dove tesla ha più margine quindi secondo me messo insieme tutti questi fattori tesla ha detto tanto io di vendere model 3 long range non ho bisogno mi tengo la standard range la performance dove ho i miei margini quello che non produco di model 3 lo passo alla produzione di model y quindi ho vinto su tutti i fronti ecco questo secondo me è il ragionamento che ha fatto tesla sfruttando appunto i nuovi incentivi vi ricordo che era zero e adesso tesla può accedere nuovamente agli incentivi che porterà a un altro aumento della domanda ulteriore questo è tutto per oggi io vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao